Facci sognare Ragazzi che spettacolo E' la mia tasso Guarda 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 Fagli vedere come si fanno No, tra quel tasto li non vedo mai No, ma quella si bloccata Allora si Oh, dentro l'office se volete Pena tena provo a farlo lì da fermo un commento su questa esibizione un commento su questa esibizione un commento su questa esibizione si